salve a tutti ragazzi bentornati su go games oggi andremo a vedere dove è situata un'altra galera eterna siamo sempre a liurnia la grazia che prendiamo come punto di riferimento è base dei quattro campanili e la galera eterna è questa qui giù galera eterna del cuculo vi faccio vedere la strada come avete visto questa fa parte di una delle galere eterne più semplici da affrontare ora a prescindere dal mio livello e dallo spadone dei cida che ha più 9 comunque è una boss fight veramente facile è semplice i gigantoni ne abbiamo incontrati tanti durante il nostro percorso per cui affrontarne un altro sotto forma di boss quindi semplicemente con più hp non cambia assolutamente nulla il rimane praticamente uguale anche se non avete avuto la possibilità di vederlo perché è morto praticamente subito la stregoneria che droppa e falange dello spadone farà comparire tre spadine sulla vostra testa che faranno danno magico grazie mille a tutti per averci seguito e alla prossima